Questa di oggi è una battaglia che mai mi dà il primo piano di combattere Perchè mi staglio Ragazzi siamo ancora in tempo per l'altro spettacolo che facciamo? Andiamo andiamo Ok ok Eccolo eccolo arriva Eccolo eccolo com'è bello com'è bello L'altra volta c'erano più padone Treno straordinario 34 923 trenoplastici d'Italia e in arrivo in terzo binario L'altra volta c'erano più padone E in arrivo sul primo binario treno locale per Taormina e Randazzo L'altra volta c'erano più padone L'altra volta c'erano più padone L'altra volta c'erano più padone Ariosto stazione di Ariosto treno locale per Taormina e Randazzo e in partenza dal binario 1 Fare attenzione sul secondo binario Treno in transito Allontanarsi dal secondo binario Treno in transito Treno straordinario 34 923 trenoplastici d'Italia e in partenza dal terzo binario L'altra volta c'erano più padone L'altra volta c'erano più padone E in partenza dal binario L'altra volta c'erano più padone L'altra volta c'erano più padone Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.